Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi per speciali 600 iscritti faremo la pizza challenge Per chi non sapesse che cos'è abbiamo qui dei bigliettini Da mantenere ci sono gli ingredienti, cose immaginabili da mettere sulla pizza tipo ananas A turno uno dovrà andare a pescare quello che l'altro dovrà mettere Poi ciò che uscirà dovremo metterlo sulla pizza e poi mangiarla tutta perché non si spreca il cibo Quindi dovremmo iniziare per vedere chi è che inizia Quindi carta forbice pietra, carta forbice pietra, carta forbice pietra, carta forbice pietra Vabbè questa qui non vale Quindi inizio io No inizio tu Inizio io Ok inizio tu Oh mio dio Dai Guarda dovrò mettere con il mio ingrediente la maionese Ah la mettiamo dopo Cipolline 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 sono buoni Dove metterla adesso? Sì no queste via da quella parte perché bisogna metterla Adesso? Sì Una scala frille Hai un uomo lì al tuo fianco Visto? Che forzuta Quante ne metto? Cipolline Tre Una Dai no le cipolline sono buone Te ne potrai mangiare anche una così se potessi Vedi io posso mangiare una anche così di cipollina? Beh no 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 Ma già già Dopo dopo la piccaccia Ma già già Su Ok Vuoi tagliarle? No 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 Tocca a te No Tocca a te C'è stato a me Ma Paggiori i cannellini Come te li ho? Sì Però bisogna scolare Un attimo la regia La regia di scola poi il mare li metterà La regia scolerà Mi mazzano già Serve però una forchetta Ok Signorina di più come è mia concorrente prenda una forchettina Grazie Mamma mia Quindi facciamo Vabbè quindi le metto Vai 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 Tutto Un po' di qua Un po' di là Non troppi però Sì che intanto Finchè non si parla di ananas Fa tutto bene Guarda mamma e non lo chiamare Ah facciamo così Quindi mettete una faccina Cioè se a voi piace la pizza con l'ananas mettete Un emoji con l'ananas E se non mi piace la pizza con l'ananas Io ne metterei 100 Metterei Mettete Not ananas Lo metterei 100 Ok Dai Se adesso devi pescare per me Patatine croccanti Ah questo tipo lo sono da mettere dopo Danmi Ok Ok questo tipo lo sono da mettere dopo Adesso tocca di dove vai Vedrai cosa che sarà Non penso niente di peggio Capperi Questi Capperi Questi Capperi Mamma mia Questi qui Mamma mia Capperi Sperate Ma in essi li dividete Se non appena vi ricordate Come devo portare E secondo me è meglio un ca Un Ah lecine Un cucchiaino Si Capperi Prendetela vai Piccoli Non passa niente Piccoli Regini Sono fatto male Grazie Provo di prenderla Mi prendo Capperi No Capperi No Lui non ha fatto questo Capperi Buoni Si però con i ceci Guarda Capperi 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 Non devo assolutamente capire la notte Ok Tocca a me Patatine Patatine Come? Sul gelato Devo prendere patatine sul gelato Capperi Le patatine Sono buone Ma no Ma no Ma aspettiamo Per arrivare il gelato Una pizza patatine Che mangiavamo sempre da piccoli cos'era? Ah no Venivano Venivano create sul momento E erano sul gelato Certo Ma sono quelle schicchi Sono dei miele Sì E' il gelato E' il gelato Ma deve essere le corichi Così poi Quando muovi la pizza Non calmi Io sono dei limoni Ok basta Adesso io devo foscare per te Oride verdi Bet Mamma mia Ma quelle quelle mie Oggi apro tutto Se tu hai cosa vuoi Poi io devo anche metterci le patatine croccanti Ricordiamoci Dopo però Leggitivamente si scioglono Dai credo in te Preferisci metterle adesso Che si sciolgono Vuoi metterle dopo? Vabbè Vabbè Allora non fatti più mettere Magari cose tipo Le noce Poi le mettono Le noce Le noce Le noce Ok mamma mia feci e qui 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 non sono mai scomparmi non è un po' Non mi do da mangiare amico Grazie Anche io mi do da mangiare Scusatemi La fanno di coppa di gas Ok figlio adesso tocca a te Che cosa è questa? Non è una pizza Vabbè se si chiama pizza challenge A meno che non vuoi fare come Daphne che ha fatto lo staff versus food Che mangia 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 E poi chissà E poi che metabolismo ha Se non ho un personaggio di 350 kg Si ma tu stai facendo un po' la furba Mi stai mettendo troppo poco Sono naturali Dimentica Dimentica Una montagna Diventerà una montagna Poi faccia Adesso diventa Mamma leggiore Averso scudo Non puzza c'è a legge Perché Ci devo mettere tantissime cipolline Tantissime cose No Non ho 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 Grazie 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 Sì Però dai L'ingrediente dovrebbe essere tipo 24 Sì ma poi saltiamo anche il tempo della cottura Già Signora regia che lei editerà il video ma poi saltiamo il tempo della cottura Sì A meno che non vuole diventare un fact time Parlare con la gente Cioè Puoi Allargare poi un po' di ingredienti Guarda io ho fatto una bellissima Ok basta Mi riaspetti là dentro questo Aspetta che allargo tutto Abbiamo visto Eh Ho guardato tutto Ok Ok Allora ma adesso tu devi Spera quando si riesce alla spiando No Mongole Le vongole Queste Queste sono vongole e quelle sono cotte Vongole No Le mani Un animale Cioè Cuntiaio Dai Giorgia Siamo su Youtube Un po' la decetta Ok Ok Metti ancora un po' di vongole No ma perché lo metti la tua parte No Ancora un po' di vongole No Fai la furba Cioè Che vuoi dire praticamente ho il secondo strato di pizza Tu sei bravo io posso farla La tua è un'operata arte Ok Non è bene basta Non esagerare Vedi che tu passi da un estremo Alla Tocca a me Ananas Non ti sentite Ananas Ti ho scritto Ananas Ok Dove vai? Eh no 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 Non so Ti ho scritto Ananas Eh Un bel reclietto Io voglio mangiare le all'alto No 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 Se vuoi me le metto un po' No 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 Non ho alcun culiato Ma no Ma no Cagnino a frucchetta No Cosa faccio la pira? Ma no Te ho preso questo pezzi A forza Con la frucchetta Prendi Ma no Le tiri su solamente Qualche pezzettino Cioè io Mica devi mettere tutta la scatola di ananas Madonna Non mi vuole Mettino sparso Così almeno non ti arriva tutt'assieme Per quando Allora Dai c'entra La fine Eh No Poi mi ha una fettellina Quindi Allora La prima Orso Ma non mi vuole Vomit Ma cosa ho fatto? Vomit Ma fa una tassi in te Mettilo per te Sparitelo Dai Mi senso così Ma sì Sono sei Sono dieci pezzi Vabbè Ti anche Ti ho fatto crema Insomma Che non ti piace Dai Devi buscare per me Già Non l'avevo detto io Di non chiamarti Menomale che l'arra Adesso non ce l'ho giù Vuoi venire così in pari No Ti spieghi 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 E così in pari Non riesco da capire Scusate Scusate La regia Passa un momento Ma dove le mette La cosa di divinia Devi metterlo qua Non vuole capire Scusa No è questo Dammi ciocchini E prenditi ciocchini Si rubano i bigliettini Ma devi venire Non sono Eh non te li resta Dai mi fai fare Non mi interessa Quindi impari A fare tanto la gradassa Non le vantare No no Ok Mi ci sono dei vongoli Dei vongoli Ok Tu adesso vi devo Facciare Sì Se mi escono Cosa è tanta cosa Gorgonzola Ma sopra la lana Se è un qualcosa Di muah Allora metti più Gorgonzola Sì ok Allora me lo mangio Direttamente Allora se lo metti Più gorgonzola Ok Poi magari Chi lo sa Magari è buonissimo Ah sì Che battuta di cartello Cucchiaino Coltello Ah coltello Sì Comunque Non si taglia Col cucchiaino Ma sì È farmazionale Ma la dirittura Con questo Ma non me l'ha rubato Di nuovo No Io ho 5 Di nuovo Perché No Sì Vabbè Così è troppo Ma direi Ma fai come vuoi È la tua la pizza Ma allora Io Non vuoi altre patatine Chi? Sì Allora lasciate vicino Che c'è Io La mamma Che c'è La mamma La mamma Questi sono i video Seri o divertenti In una famiglia Numerosa Sì Come si sentono le voci Insomma Sì Si fa Che c'è Controllando Un po' naturale Per te Certo Tu che viene assieme A lui Quindi Verdi Mi ho preso io Quindi Deve Ancora Pescare due volte Per te Mi sembra Ecco perché La sua pizzerra Qui vuota È la mia È una montagna No L'ovo No Signore Venditi l'ovo Prego signorina Questo è mio Tuo Mio Non farmi Adesso Ne pesco un altro No Voi messi qui Vanno messi dopo Lei lo rompi Voi messi qui Vanno messi dopo Ma no 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 L'ovo va cotto Poi chiamo Dallo su Scusa Scusa Ma dai L'ovo è buonissimo Sì No no Ti fresta Vedrai che poi è buona Che c'ha fatto Ma che sfida Questo però Lo devi mettere dopo La ten Ma dammi il bigliettino Uno c'è la sua L'ho fatto Dai Adesso Ma non mangiare gli ingredienti della pizza Tocca a me Tocca a me che posso scarti Cozze Ok Con l'anamass Mamma Eh Se io uovo con ketchup Con corrente Con corrente numero due Mi puoi Tendere un altro Non è colpa mia Credo Ma no Ma seconda Oh Perché lo fa? Perché Perché Io ci fai? Eh Misteri della vita Guarda che non ci pagano ancora Che uovo Quindi Le cose le devi fare gratis Adesso Sono di pescare per me di nuovo Sì Speriamo che la scoppa sia dalla tua parte Aiuto Però non riesco ad aprirlo Che è ketchup Normale Tu ti vedi che è ketchup Berto Sì Chekup Chekup No Chekup Adesso Non mancano pochi Sì Mi escono i popcorn Dai Bri Il bri Altro formaggio Cioè io Ho sempre fatto la pizza Non è a due Come non è che C'è pieno Due Sì Concorrente numero due Coltello per favore Mi hai dato il mio Coltello Ho chiesto il coltello Il coltello Adesso Ma perché i muri ascoltano di più in certe volte? Non so Per certe volte Ma è vero Non c'è anche la cipolla Non mi piace la pezza Ne metto uno E' una cipolla Grande Non mi piace il figlio Poppen Tocca � Acqua 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 Non Un Cipolla Cipolla Lei Tutto Cipolla � La favola, qua è un po' di pila. I tralini non mi piacciono per niente. Io non ce la faccio. Anche così devo mettere sulla pizza. Invece lui ha detto gli ingredienti di polizia. Già nell'ananas può finire i tempi di rossi. Forse è proprio bianca. Perché anche lei si è anche visto male dentro. Quindi ci dispiace per te, George. Adesso fiori i tralini. Benissimo. Fatto. Cicchiolini. Ops, ho preso questo. Scusate. E' un coltello, sai comodo. In tema, pizza! Ho messo i tralini, ho messo i tralini. Ne metti ancora uno adesso, perché non l'abbiamo visto. Che succede? La vita. Ma io non la mangio e poi? Eh, ok, allora... La diamo a qualcuno? Ma la mangio io. Mi raccomando. E io mi raccomando. Perché non ci potremmo anche scegliere tutto questo cambio? Scambio, scambiare le tifiche? Ok. Un po' potrebbe anche succedere alla fine. Che non sa la regia decide. Dai! Tu hai ragione di quelli dovevo scescare per... Acciughe! Acciughe! Ecco! Ma cosa si fa? Erbulente! Anch'io una cosa obbligo! No! Piccante! Tutto piccante! Cosa? Ah però io ho questo perché è uno piccante e anche lui... Qualcosa per... Guarda lo scambiamocene meglio! Qualcosa? Planina con la punta del coltello! Tanto basta che ne metti una o due collana... Immagino una bomba! Questa è una piccola ristorante, non tutti vorrebbero mangiarla, no? Mi ha voto 10! Stai grandi chef, mamma e donna che... Te la stai facendo? Vediamo che non mi escono che fai! Guarda un attimo! Dai! While... Va bene ti sentite! Ma tu non mi pare... Sai graduating! Mi vuoi смотреть! Sì non mi vuoi! приготовito ma… Vi sua volta andando... Grazie mille, we can.. Mi pare domanti lo scambio con il mio don cuore quella te, dai si… Sud guai in e dopo la cosa che vuoi vedere... Troppo, in un고 non fare una cosa, che ci vuoi vedere Troffer? acciughe io ho detto speriamo che non mi escano queste ecco mi sono uscite è arrivato papà dammi le acciughe dammi le acciughe prendila con la mano che se no ti cade tutto adesso lo assaggio anche una per vedere se sono buone ma sono acciughe sono solo salate mamma adesso le devi mettere un acciughe non la vuole più facciamo a vedere no non la vuole facciamo a vedere dammi le acciughe devo pescare per Manu ci vuole? le volevo io forse è una soddisfazione non tutte eh mi faccio più mi mancano due bigliettini fatto? guarda quanto devi pescare per me io non voglio meravigliare io non capisco perché quella di marmone è così piena di ora perché io ho messo tutto praticamente al basso ma non è lì ma che cosa vuol dire? noci no 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 e quindi? ma questo cosa vuol dire? che mamma deve mettersi poccone anche tu quelle le metti dopo va bene quindi adesso cosa facciamo? Allora in pratica questa è la mia pizza e questa è quella di Manu, sembra più piena ma di Manu non sappiamo perché e niente adesso ne fornerò e poi la zia dice, eh, l'uomo è buono ma non sa che altri veneti ci sono sopra, cioè aiuto, regia, non me lo due, ve la puoi aprire e anche il papà? si, e la veneta, e il ketchup piccante normale e i noci oh regia, magari il ketchup puoi metterlo dove non hai ingredienti ma guarda, no, è in pieno già, già e certo, quindi ma devi piantare bene ok, questo giungo ai noci mi posso mettere poche? mi posso mettere poche? mi posso mettere poche? mi posso mettere poche? ma scusi ma dai qua tu cosa apri hai? uovo, patatine, cetriolini acciughe, noci, ketchup, olive, cipollino quella forse ancora ancora ma basta quando li metti ma poi la è la forse ancora ancora ci costava ma compro che ci dico che la mia è buona no no non dico dico che ha degli ingredienti più da essere umani ma non mi spiace non so dove essere umano che dico no no non è una pizza da essere umana mi fa venire schifio io non ne metto e guarda che gli ingredienti che abbiamo usato sono anche decenti perché istima la marmellata e lo yogurt beh ma sai se non metti sale ma va no erano queste qua già così fatte e ci ha messo sopra di tutto anche loro avevano l'uovo c'è capito però ha visto che lui aveva fatto così come noi che certi ingredienti li avevano messi prima ma lui è non è tanto piccante com'è che si chiama l'amico di Cristiano non è tanto piccante Diego ah lui e Diego l'avevano messi subito e altri invece dopo come il ketchup la maionese i pop corn magari si abbrustolivano anche così i pop corn io vorrei aspettare che si rappeggiasse beh un po' si non è che potete funzionarvi le noci poi anche non ho messo le noci moscare non ho visto dove sono? ah ok mi mettete ancora uno ma perché ti dico? ma quanto lì? ok così ho anche il pomodoro che sotto che sono no vabbè aspettiamo qualche minuto che si raffredda e poi mangeranno quelle buonissime pizze no do you wanna know? well I've been thinking about you and I think I have to listen because the sun is up it's a beautiful day my beginning will be as bright as the sun come won't you come along and it feels so bright it's like luck is raining on me go and follow your heart doesn't matter how far there is so much love to give something's telling me this time baby baby now I know baby baby gotta go there is so much love to give something's telling me it's right when you came to me oh I knew it's you it's you yeah boy the one who showed me now and forever know you'll never be alone again all day oh yeah all day please stay in my arms boy the one who showed me if we're together it don't matter if it rains all day oh yeah all day as long as you're in my arms boy it's you and me on this beautiful day and it's time holding on to your time i guess our hearts cannot lie and it feels so bright it's like your love has gotten to me go and follow your heart doesn't matter how far i can see it now it's deep in your eyes no way to define what we feel inside baby baby now I know baby baby gotta go there is so much love to give something's telling me it's right no come must i can mia ho 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 in la ho ho non è italiana ah si è una cosa fatta così se ci metti solo cose che sono buone infatti gli americani non sono italiani i più quelli ce la mettono sopra iscriviti al canale 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 iscriviti al canale